Buongiorno, buongiorno ragazzoli! Qual è la prima cosa da fare il giorno dopo di un'importante partita? Qual è? Qual è? Mettere sotto processo l'allenatore che ha perso. Mi sembra logico, l'abbiamo appurato già qualche giorno fa con Antonio Conte. E beh, e beh, Maurizio Sarri condivide la stessa sorte. Figuriamoci poi un allenatore che si ritrova in una squadra che da tempo in memore sta vincendo. Arriva lui e Supercoppa Stecca, Coppa Italia, Finale Stecca. E voi non voi che viene impallinato anche lui? E beh, le pallottole poi dei giornalisti e dei tifosi sono belle feroci. Sono di quelli che pungono, che fanno male. Ne parliamo in questo video, ma prima scarichiamo fan rating. Sì, in descrizione c'è il link, quest'app vi permette di andare a votare il vostro giocatore preferito, della vostra squadra del cuore, al triplice fischio, in descrizione c'è il link. Scarichiamolo, perché vi permette di vincere buoni Amazon, eh? Eh, 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 ok, brava, 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 passateci, passa, brava, brava, brava. Allora, Maurizio Sarri, i tifosi hanno già scelto quello che è il colpevole, unico colpevole, e su questo io non ci sto, perché sono il primo a dire che Maurizio Sarri ha le sue colpe, ma sapete qual è la colpa più grande di Maurizio Sarri? Sempre per me, eh? È che si è comportato da aziendalista. Bene, ci sono allenatori che se lo possono permettere, altri invece no. Maurizio Sarri è uno di quelli che non se lo può, indubbiamente, credo, ad oggi, permettere. Perché se ti sta bene tutto, poi cade anche su di te, cadono su di te le varie responsabilità. E i tifosi sono inferociti, sono inferociti con Maurizio Sarri. Ma la verità è una soltanto, secondo me. E non è neanche una questione di fame, questa squadra non ha fame, sento dire. Ieri, nuovamente, tra i peggiori in campo c'è stato Cristiano Ronaldo. E mi venite a dire che Cristiano Ronaldo non abbia fame? Non ci credo. Che Cristiano Ronaldo non abbia fame? Non ci credo. Quindi non è neanche colpa di Sarri se non rietroci a trasmettere quella fame. No, no. I guai, i malanni, tra virgolette malanni, ad oggi è, ad oggi. Perché poi va a finire, che la Juventus ti vince Scudetto e Champions League. E stiamo qui a parlare del meno, stiamo qui a parlare di intrugli e di cavolate. Magari i Sarri gli fanno la strato, eh. Perché poi il calcio è questo. Ma ad oggi, ad oggi, tutte le colpe ricadono su Sarri, ma i malanni iniziano da inizio stagione. Anzi, dal finale della stagione scorsa. Quando Agnelli, consigliato eventualmente dai suoi dirigenti, fa fuori Allegri. Bene, se fai fuori Allegri, devi avere un progetto, ma devi avere le idee chiarissime e devi essere sicuro che puoi attuarlo. E il problema è stato quello. Il problema, sapete qual è? E che non si è potuto attuare. Perché i primi intoppi arrivano col calcio mercato in uscita. E da lì che nascono i problemi in casa Juve. Calcio mercato in uscita. La Juventus non ha fatto mercato quest'anno. O meglio, attenzione, non è che non abbia fatto mercato che dice, no, come ha acquistato. No, non è riuscito a fare il mercato che voleva per il suo allenatore. E questo che è successo. Non ha fatto mercato. La Juventus è l'unico giocatore che poteva vendere, che riusciva a vendere. Era Di Bala, paradossalmente, il migliore poi. L'unico che voleva e non ha voluto andare via lui. Quindi in uscita il mercato non è stato proprio fatto. L'unico che voleva e non è andato via lui. Quindi il mercato non è stato proprio fatto in uscita. E tu non puoi pensare di andare a rinnovare una squadra con parametri zero. I parametri zero vanno bene. Come ho detto, vanno bene. Vanno bene per fare il plus valenza, ma non vanno bene per rinforzare o cambiare la rotta di questa squadra. Con Rabiot e Ramsey a parametri zero. Ma come puoi pretendere di cambiare la rotta, cambiare la filosofia di gioco di una squadra? Ma come puoi pretendere? Stiamo parlando di due giocatori che quest'anno non sono stati neanche... Insomma, insomma, Rabiot è stato più che volte il titolare ci ha provato. Ramsey, vabbè, problemi fisici. Però, cioè, questo è il discorso. De Litt, vabbè, va a sostituire magari il vecchio Bombarzagli tempo fa e diventa una pedina. Però vai a prendere un giocatore di vent'anni di ottima prospettiva, non un giocatore che ti dà subito il massimo da subito. Ma parliamo comunque di un difensore centrale. Noi a Sarri si rimprova del gioco, quindi non è da mettere... Non c'è neanche da stare lì a parlare di De Litt che poi, secondo me, Cristiano ha fatto una stagione ottima dopo i primi acciacchi, ma non c'entra niente in questo momento. Cioè, noi parliamo di gioco, gioco, gioco. Si pensava di dare la filosofia di calcio sarriano con Rabiot e Ramsey? Con Rabiot e Ramsey la Juventus iniziava a diventare palleggiatrice. Palleggiatrice, si può dire, a palleggiare con Matuidi, con Pjanic e Ben Dacur. Che attenzione, non sto dicendo che siano giocatori scarsi. No, sono giocatori forti, ma non sono i giocatori per la squadra di Sarri. Quindi è inutile che cerchiamo ancora di parlare, ma non si è visto il calcio. Ma non si può vedere, non si potrà vedere il calcio sarriano, se ha questi giocatori. Non si potrà vedere. Ecco perché, allora, è ovvio che, visto il calciomercato fatto, è ovvio che questa squadra manca il suo vero condottiero, che è Allegri. Allegri, con questa squadra, ti aveva portato a casa la Supercop e la Coppa Italia. Ma tranquilla, ad occhi chiusi. Ad occhi chiusi se te l'aveva portato. Ad occhi chiusi. Ecco, per me non è stato fatto un buon lavoro in dirigenza. Poi è ovvio che, Sarri, tu sposi il progetto, ti danno questi e non li riesci a valorizzare. Hai anche un problema tuo. Hai anche un problema tuo perché significa che tu, al di là di quel modulo, al di là di quella filosofia, non sai esprimere un altro calcio. E allora ti devi beccare anche tu le tue patate bollenti, caro Sarri. Ebbè, è normale ed è logico che sia così, come quando viene criticato Conte perché sa esprimere solo un determinato calcio. Però Conte non è fesso, dice io ci vengo, io mi faccio pure pagabene, ma io voglio essere accontentato in tutto per tutto. È quello il fatto di essere aziendalista o meno? Faccio quello che dico io o faccio quello che la squadra mi impone? Bene, se faccio quello che la squadra mi impone e poi non porto i risultati, è ovvio che ricade su di me la colpa. Perciò ci devo pensare due volte, ci devo pensare due volte. E' andata così, è andata così. Poi, ultima, ultima cosa. Stiamo qui a tirare le somme, stiamo qui a tirare le somme di una stagione quando parliamoci chiaro. Quello che abbiamo visto negli ultimi 3-4 giorni, cos'è? È calcio ad agosto. Ragazzi, quello che abbiamo visto negli ultimi 3-4 giorni, noi qua stiamo tirando sentenze su sentenze. Ma quello che abbiamo visto negli ultimi 3-4 giorni è calcio ad agosto. Cioè, squadre che sono stanche, che non riescono a essere lucide, che durano un tempo. Non c'è forza, non c'è mordente. C'è un po' di organizzazione e c'è quella squadra che ha quella grinta un po' in più per anche questioni extracalcistiche, come abbiamo visto il Napoli di Gattuso. Assolutamente sì. E la portano a calcio con merito. Assolutamente sì. Ma resta calcio ad agosto. Cioè, resta calcio ad agosto. Vede Ronaldo in quelle condizioni là. Vede Buffon che è il migliore a 40 anni. Per me mi fa capire che questo è calcio ad agosto. Questo è il discorso, in realtà. Va bene, va bene, va bene. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Commentate, likeate. Perché no? Se vi va, iscrivetevi al canale. Io vi posso abbracciare caramente e vi posso abbracciare forte. Stop, basta così. Ciao sì. Ciao. 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 Ciao.